Alta tensione nella maggioranza, al centro della questione il MES, lunedì il Premier Conte è atteso alla Camera. Svolta nell'omicidio di Luca Sacchi, la fidanzata Anastasi, indagata e sottoposta ad obbligo di firma. Torna il venerdì di sciopero per il clima, cortei previsti in Italia e nel mondo. Oggi è il giorno del Black Friday, previsto boom di acquisti fra negozi e siti internet, ma i commercianti si dividono. Si dinde i tassisti di Roma contro il Comune, al centro della protesta il nuovo regolamento. Troppi costi, chiude la storica libreria del viaggiatore di Roma, era stata inaugurata nel 1991. Buongiorno e benvenuti ad un'edizione del Tg di Lumsa News in apertura, la politica. Dopo la bagarre in aula alla Camera sul Fondo Salva Stati, Salvini attacca il Presidente Conte che minaccia una querela. Il servizio è di Chiara Viti. Non si ferma all'escalation di polemiche sul MES, il cosiddetto Fondo Salva Stati. Scintille fra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il leader della Lega Matteo Salvini, che ha definito il meccanismo europeo di stabilità un attentato alla sovranità nazionale. Dal Premier soltanto bugie, con il Fondo Salva Stati sono a rischio i soldi degli italiani. Il leader del Carroccio ha attaccato il governo, invocando anche l'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella per far rispettare la Costituzione. Non si è fatta attendere la risposta del Premier Conte, che ha minacciato querela verso l'ex ministro. Vado adesso in procura a fare risposto. Io vorrei chiarire agli italiani che io non ho l'immunità, perché non sono parlamentare. Io sono Presidente del Consiglio e non parlamentare, quindi non ho nessuna immunità. Lui ce l'ha. Immediata la replica di Salvini. Devo dire al signor Conte che se vuole quell'armi deve mettersi in fila e prendere il bigliettino, perché prima viene Carola e poi viene la signora Cucchi e poi vengono tutta un'altra serie di persone manco relato. Il Presidente del Consiglio ha annunciato che riferirà sul caso lunedì alla Camera. Nel dibattito si inserisce anche il Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, che rassicura la riforma del MES non presenta nessun rischio. L'unica cosa che danneggia l'Italia sono le polemiche pretestuose della Lega e dei suoi alleati. Interviene anche il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che auspica una decisione tempestiva. I conflitti all'interno delle istituzioni e del Governo non fanno mai bene il mondo dell'economia. E proprio al MES, dedicato all'approfondimento di oggi, al DigiWall per noi, c'è Federica Pozzi. Buongiorno Federica. Buongiorno Giuseppe. Abbiamo sentito le polemiche riguardo al Salva Stati. Vediamo ora di cosa si tratta. Il MES nasce nel 2012 come sostituto del Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria e del Meccanismo Europeo di Stabilizzazione Finanziaria, nati a loro volta nel 2010 per salvare Portogallo, Irlanda e Grecia dalle proprie crisi. È un'organizzazione intergovernativa, vi aderiscono i 19 paesi della zona euro e fornisce un aiuto economico agli Stati membri. Ha un capitale di 80 miliardi di euro e una capacità massima di 700 miliardi di euro reperibili sui mercati finanziari. Riceve contributi da ogni Stato in proporzione al PIL. Sappiamo che l'Italia è il terzo contribuente dopo Germania e Francia. Vediamo quali sono le tappe della riforma. La riforma è iniziata nel 2017 ed è poi continuata il 14 giugno 2019 con un primo accordo dell'Eurogruppo. Due giorni fa con l'audizione al Senato del Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri che ha scatenato diverse critiche e lunedì prossimo, il 2 dicembre, ci sarà l'audizione del Premier Conte alla Camera. Si concluderà poi il 13 novembre 2019 con il vertice europeo in cui si decideranno le sorti della riforma. Ma vediamo in cosa consiste la riforma. Il MES funzionerà da backstop rispetto al fondo di risoluzione unico, quindi qualora il fondo dovesse esaurire i soldi, verranno appunto dati in prestito dal MES, avrà un ruolo più forte sui programmi di assistenza e più strumenti a disposizione riguardo la strutturazione del debito dei singoli paesi. E poi ci sono le clausole di azione collettiva che diventeranno a maggioranza singola, mentre adesso sono a maggioranza doppia, facilitando così appunto la ristrutturazione del debito. La riforma ha causato, ha suscitato non pochi dubbi, poiché soprattutto per quanto riguarda la ristrutturazione preventiva del debito pubblico. Infatti c'è un'indagine secondo cui 10 paesi sui 19 dell'Eurogruppo non soddisferebbero le condizioni di accesso al MES. Sono inoltre da ricordare le parole del governatore di Banca Italia, Ignazio Visco, secondo il quale soltanto l'annuncio di queste novità potrebbe scatenare una speculazione sui titoli dei paesi più in crisi. E poi appunto c'è l'eccessiva semplificazione della ristrutturazione del debito dovuta alle clausole di azione collettiva che diventano a maggioranza unica. Per finire vediamo quali sono le posizioni dei principali partiti italiani. Tra i favorevoli troviamo PD e Italia Viva, tra i contrari Lega e Fratelli d'Italia con la Lega che accusa ha accusato il premier Conte di tradimento e in dubbio Movimento 5 Stelle e Liberi e Uguali che temono la possibilità di un commissariamento da parte dell'Unione Europea. Io ho finito, a te la parola Giuseppe. Grazie Federica e adesso continuiamo con le nostre notizie. C'è una svolta nelle indagini per l'omicidio di Luca Sacchi, ragazzo ucciso la sera del 23 ottobre con un colpo di pistola. I dettagli nel servizio di Tommaso Franchi. Da parte l'ESA ha indagata. Dopo più di un mese dall'omicidio di Luca Sacchi la posizione della fidanzata Anastasia appare decisamente cambiata. La 25enne è indagata con l'ipotesi di aver tentato di acquistare la sera del delitto un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti dagli altri indagati. Il GIP di Roma ha disposto nei suoi confronti l'obbligo di presentazione in caserma. L'abitazione della ragazza è stata perquisita ma non è l'unica novità che emerge dal caso Sacchi. Destinatari della misura della custodia cautelare in carcere per concorso in omicidio pluriaggravato, rapina aggravata, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo sono i due ragazzi già reclusi fermati nei giorni successivi all'omicidio. Tra i destinatari della custodia cautelare in carcere spicca il nome di Giovanni Princi, volto già noto al padre di Luca Sacchi. Questo Giovanni Princi lo conosceva da 5-6 mesi penso ha cominciato a frequentarlo prima però ai tempi del liceo si erano persi. Secondo l'accusa, Princi il 23 ottobre scorso avrebbe svolto la trattativa con i pusher per l'acquisto di un ingente quantitativo di droga. Proprio in questo filone si inserisce Anastasia che avrebbe cercato di acquistare le sostanze con lo stesso Princi. In carcere anche un 22enne è accusato di aver materialmente fornito la pistola del delitto e killer di Luca Sacchi. E proprio sull'omicidio di Luca Sacchi abbiamo degli aggiornamenti molto importanti. In particolare il procuratore di Roma Giuseppe Prestipino nel corso di una conferenza stampa di tenutasi appunto oggi alle 11 ha dichiarato che nessun elemento allo Stato esiste per dire che Luca Sacchi fosse coinvolto partecipe o consapevole della compravendia di sostanza stupefacente. Ma abbiamo anche un'ulteriore notizia che riguarda Anastasia, tant'è infatti nello zainetto che appunto teneva la ragazza non c'erano 2.000 euro come detto nella prima fase delle indagini, bensì ce n'erano 70.000. Adesso continuiamo con le nostre notizie e al via la quarta giornata mondiale Friday for Future. Grande assente Greta Thunberg lo vediamo nel servizio di Serena Console. Chi scende in piazza e chi entra nei negozi. Torna il quarto sciopero globale del clima dei Fridays for Future. In Italia, da nord a sud, sono previsti 139 cortei per chiedere ai leader politici di attuare in misure concrete a contrastare i cambiamenti ambientali. Alle manifestazioni aderiscono anche Rete della Conoscenza, Unione degli Studenti e Link. La giornata dell'azione climatica vedrà sfilare attivisti di tutte le età ispirate dal messaggio della giovane Greta Thunberg, unica grande assente perché impegnata nella traversata in barca per arrivare in Spagna in occasione della COP25. Ma l'appuntamento eco-friendly deve fare i conti con lo shopping compulsivo del Black Friday in cui migliaia di acquirenti acquistano prodotti scontati su internet e nei negozi. Un'occasione perfetta per gli attivisti del clima per denunciare un sistema economico fondato sullo sfruttamento sconsiderato dell'ambiente dei lavoratori per produrre merci inutili a basso costo. Manifestiamo in quanto il Black Friday spesso è il simbolo del consumismo e del materialismo. Viviamo in una società che incentiva lo sfruttamento esagerato delle risorse del nostro pianeta e il Black Friday ne è un po' l'esempio. Lo chiamano Black Friday per portare l'attenzione di tutti, gli effetti del consumismo portato alle estreme conseguenze. Ma gli attivisti climatici non saranno soli. Oggi in piazza scenderà anche il neonato movimento delle sardine nel tentativo di riaffermare un'altra idea di politica, quella con la P maiuscola, senza colori né bandiera. Una settimana di sconti che arriva direttamente dagli Stati Uniti. Black Friday fa il bello e il cattivo tempo per i commercianti. Il servizio di Tommaso Coluzzi e Andrea Murgia. Si scrive Black Friday, si legge settimana di super sconti fino al 70% che culmina con l'ultimo venerdì di novembre, dopo il giorno del ringraziamento. Secondo le stime del Politecnico di Milano, questo evento di importazione americana produce già un importante giro di affari nel nostro paese. Gli italiani spenderanno 1,3 miliardi di euro, circa il 25% in più rispetto al 2018. Il Black Friday è oggi, ma i commercianti propongono prezzi scontati ai clienti da inizio settimana. Conviene, secondo me conviene anche tanto. Perché comunque è un'agevolazione sia per i clienti che vengono e risparmiano e a noi porta più lavoro. Ma non tutti sono d'accordo. Dietro al Black Friday, secondo il Centro Consumatore Italia, si annidano anche dei rischi per i clienti. Prima di acquistare andate un po' in giro a vedere nei vari negozi. Vedete se lo sconto è effettivamente interessante. Lo sconto 60-70%. E lì c'è sempre qualcosa che non va. Mentre torna di moda una proposta di cui si parla da tempo. Noi non siamo tanto per i saldi. Noi siamo perché ci siano tutto l'anno la liberalizzazione dei prezzi. I tassisti di Roma protestano contro il Comune e lamentano l'assenza di dialogo. Martedì hanno scioperato davanti alla stazione Termini. Il servizio è di Giacomo Andreoli e Laura Bonaiuti. Questo incontro ci venga fissato. Se questo non avverrà, continuerà la nostra battaglia in maniera sempre più aspra e con più rabbia ancora. I tassisti di Roma martedì hanno protestato davanti alla stazione Termini, contro il Campidoglio e contro la sindaca Virginia Raggi. Contestano il nuovo contratto di gestione proposto dall'amministrazione secondo cui tutti loro dovrebbero accettare qualsiasi regolamento comunale futuro che li riguardi. Se non firmiamo, dicono, è a rischio la nostra licenza. Ma non solo. Lamentano un problema di viabilità a Termini e ancora l'abusivismo dilagante, il fatto che il Comune abbia affidato il trasporto dei disabili a soggetti privati senza autorizzazione e il problema tariffe. Sono ferme da otto anni, quindi ci sono stati negati quattro adeguamenti. Siamo arrivati a questo punto perché, nonostante i tentativi ripetuti che abbiamo fatto di avere un'interlocuzione decente con la sindaca di Roma e col ruolo che dovrebbe svolgere dei garanti di tutti i cittadini e lavoratori compresi, a queste nostre richieste ha sempre risposto picca. Il presidente della Commissione Mobilità del Campidoglio, Enrico Stefano, ha intanto lanciato una nuova proposta che affianchi alle regole previste l'adeguamento dei prezzi e il decongestionamento delle aree centrali, ma ai tassisti non basta. La città non è pronta ad aiutare noi a ascoltare le nostre esigenze. Il rispetto per una categoria che comunque è un servizio pubblico, che ci sembra doveroso. A margine di un convegno alla Lunza, Camilla Canale e Diana Sarti hanno intervistato Giovanni Grasso. Il consigliere per la stampa del presidente Mattarella ha parlato di contrasto all'odio e ha rivelato che il Quirinale potrebbe sbarcare su Facebook. Vediamo il servizio. Io credo che un tasso di razzismo e anche di antisemitismo sia presente in tutte le società contemporanee ed è un antisemitismo che si nutre essenzialmente da pregiudizi, da stereotipi. Giovanni Grasso, consigliere per la stampa e la comunicazione del presidente della Repubblica, ha raccontato del suo primo romanzo, Il caso Kaufman, ispirato a una storia realmente accaduta nella Germania nazista. Per combattere il risveglio dei sentimenti antisemiti, il modo migliore è l'educazione. Si comincia dalla scuola a rispettare e a non odiare gli altri, quindi bisogna fare una grande opera educativa anche per gli adulti. Bisogna essere molto severi, bisogna dare esempi, perché è una battaglia che non riguarda soltanto il mondo dei social o della comunicazione, ma riguarda tutta la società. Grasso, ospite a un convegno della Lumsa, ha anche annunciato che il Quirinale potrebbe aprire una pagina Facebook. Se un media esiste, bisogna che il presidente della Repubblica ci sia. Il Quirinale è stata, in Europa, la prima istituzione di vertice a sbarcare su Instagram. Il presidente è entrato in connessione con un gruppo di giovani che altrimenti sarebbero rimasti fuori dal flusso di comunicazione. Vi leggiamo adesso un aggiornamento che proviene direttamente dalle parole pronunciate dal Papa sulla questione eutanasia. Il Papa ha detto che il diritto a morire non ha basi giuridiche ed è un'invenzione della giurisprudenza che si definisce, per così dire, creativa. Per il Papa, infatti, le sentenze che in tema di diritto alla vita vengono talora pronunciate nelle aule di giustizia in Italia e in tanti ordinamenti democratici, sono pronunce per il quale l'interesse principale di una persona disabile o anziana sarebbe quello di morire e non di essere curato. Questo è quanto ha detto appunto il Papa in un aggiornamento dell'ultima ora. Passiamo adesso ai nostri servizi. Troppe tasse. Chiude una storica libreria a Campo dei Fiori dedicata alla narrativa di viaggio. Oggi ci sarà l'amara festa di addio. Il servizio è di Giorgio Saracino e Marco Valentini. Dopo quasi 30 anni chiude la libreria del viaggiatore. A pochi passi da Campo dei Fiori, in via del Pellegrino, è stata finora un punto di riferimento unico per i romani appassionati di narrativa di viaggio, con i suoi oltre 10.000 volumi dedicati alle mete più affascinanti di ogni parte del globo. Non ci sono delle leggi a salvaguardia di queste realtà, perché gli incassi fatturati di una libreria non possono assolutamente essere gli stessi di un ristorante e per questo motivo anche la tassazione non può essere la stessa. Un dialogo con le istituzioni si è aperto e nelle prossime settimane si cercherà una soluzione condivisa per evitare una chiusura che, anche simbolicamente, restituirebbe l'immagine di una Roma che si disinteressa e trascura un'importante realtà culturale. Cioè la città ci tiene ad avere realtà come queste oppure non c'è interesse. L'alternativa che abbiamo pensato è che se Roma non ci vuole noi occupiamo tutte le città con un progetto di libreria itinerante. In attesa di un'aspicabile svolta e in concomitanza con il Black Friday, i proprietari invitano i romani a comprare ognuno un pezzetto della libreria. Questa sera alle 19 è previsto una festa per salutare tutti quanti, ma anche per far vedere quante persone in realtà tengono a questa libreria e pertanto lo aspettiamo qua. Era questa l'ultima notizia del nostro DG, ma l'informazione continua sul nostro sito internet lumsanews.it e sui nostri social. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione del DG di Lumsa News. DG di Lumsa News. Grazie a tutti.